Il 30 gennaio è stato organizzato questo evento online che sarà presente in diretta a Facebook e sul canale YouTube di Confragg Cultura Siena, in cui si parlerà di fravescienza dorata, una problematica emergente soprattutto in questi ultimi anni e soprattutto per le regioni viticoli del Nord Italia, dove in alcune aree è diventata proprio la problematica numero uno per quanto riguarda la viticoltura. In questo evento ci sarà la possibilità di sentire le esperienze dei diversi territori, i viticoli italiani, sentire qual è la situazione, ma anche quali sono le misure di contenimento che vengono applicate e nonché le criticità che sono state incontrate in questi ultimi anni per contenere questa pericolosa malattia associata a fitoplasmi. Quindi un appuntamento molto importante perché per questo tipo di malattie è fondamentale un lavoro di gruppo, di squadra, di territorio, sono problematiche che non riguardano solo le singole aziende, ma che riguardano interi territori e che possono mettere in difficoltà anche interi territori, non solo singole aziende. Quindi l'appuntamento è molto importante per potersi confrontare e per potersi aggiornare sulle ultime anche innovazioni, sulle ultime soluzioni proposte della ricerca e della sperimentazione di campo. Grazie.